i tozzi della ligand testati, ahimè vi dico ahimè perché insomma come avete avuto modo di vedere da questi video non è che mi hanno entusiasmato particolarmente, anzi non hanno fatto altro che contribuire alla perdita di crediti di queste settimane ma non fa niente questo per la scienza ma soprattutto per voi, oggi concludiamo con il reparto difensivo di fatti andiamo a guardare Caio Enrique e Klaus ovvero i due terzini rispettivamente il sinistro e il destro e concludiamo in bellezza poi con Marquinhos quindi mettetevi comodi perché andiamo a fare come al solito il recapino statistico e poi andiamo a vedere le clip registrate durante queste giornate di test passiamo dall'appunto in game e il primo giocatore che andiamo ad analizzare è proprio Caio Enrique Oliver Silva noto come Caio Enrique probabilmente lo sa solo la madre, questo perché è un giocatore di 1,81m per piede sinistro, 3 di skill e 3 di piede debole sappiamo benissimo insomma che quest'anno la quarta skill è fondamentale per un terzino per poter eludere il pressing per potersene andare sulla fascia quindi già questo un pochino mi faceva storcere il naso così come mi fa storcere il naso questo 97 di accelerazione abbinato ad 89 di velocità scatto perché io vi assicuro che giocatore più lento e fracido di questo Caio Enrique io non ho provato anzi forse l'ho provato all'interno di questo video fondamentalmente questo è totalmente impalpabile palla al piede è inutile, vi giuro inutile difensivamente quasi assente mi verrebbe da dire sì il 99 di resistenza, sì degli ottimi passaggi che devo dire la verità peccato, mi viene da dire peccato ma quel controllo palla lasciatelo stare, quel 95 di agilità lasciatelo stare un tronco raga, un tronco di giocatore, aggettivo per questo Caio Enrique inutile che poi si traduce in inutilizzabile quindi onestamente un bel voto 4 per lui in pagella lasciate proprio perdere, peccato perché linkava anche Neymar ma purtroppo si è rivelato veramente un sola di dimensioni indescrivibili però fai di compagnia in questa personalissima classifica di bidoni abbiamo Klaus, Santa Klaus 90 di overall per lui 1,85m, normale normale già questo anche qua, classico giocatore che sta fermo in mezzo al campo piede destro, giustamente per non far arrabbiare Caio Enrique pure lui 3-3 e siamo a 2, 2 giocatori inutili velocità totalmente fake totalmente fake passaggi che per carità sono decenti, difensivamente scordatevi tutte quelle cose la lettura difensiva totalmente inutile, impresente, impalpabile veramente sembrava Casper in mezzo al campo forse riprovato sotto Natale con la brezza natalizia Santa Klaus si potrebbe risvegliare quel 99 di agilità dove? un tronco, un tronco veramente raga, impresentabile Klaus come Caio peccato pure lui perché era francese, perché era facilmente linkabile guardando la carta sembrava anche interessante guardando il prezzo pure però onestamente da bocciare totalmente 4 anche per Santa Klaus niente altro da aggiungere vedrete poi dopo più che altro vedete e non vedrete perché ho veramente pochissime clip di questi giocatori invece che giocatore Marcos Saos corre a noto come Marchinhos mi scende la lacrimuccia perché insomma mi ricordo i fasti della magica normale alto il walk rate 1,83m, piede destro 3-3 ma è un difensore centrale quindi non ci importa si sente tantissimo la velocità recupera bene in campo aperto ottimi passaggi in fase di impostazione molto agile con l'L2 risponde benissimo a quelli che sono i micromovimenti avversari all'interno dell'area di rigore intercetta un botto lettura difensiva che si traduce in un boato di interventi automatici aggressivo si attacca all'avversario recupera benissimo il pallone quindi Marchinhos ha esattamente tutti gli attributi al suo posto e come DC puro sottolineo puro quindi senza calcolare quello spostato bla 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 che quest'anno ormai sappiamo come funziona è uno secondo me dei migliori molto molto bene il buon Marchinhos prima di andare a vedere le clip special menzione d'onore per Joe Gomez nella versione Moments che è uscita due giorni fa perché me l'avete chiesto quindi giustamente io vi voglio dare anche un cenno su Joe Gomez che per carità divina ragazzi voi lo guardate dite minchia Joe Gomez che carta che c'ha io vi dico sì però vi dico anche che costa 500k e vi dico che santo cielo è l'ennesima carta con 90 di velocità in difesa uscita quest'anno quindi boh io vi direi e sbloccatelo nella misura in cui soprattutto giovedì con i premi magari abbassate il prezzo e magari avete bisogno di un DC puro inglese magari che vi linka Walker che volete usare terzino ma non vi state a svenare questo Gomez cioè è uno dei tanti ormai cioè non è che uscito Maldini Prime Moments e ve l'hanno regalato cioè è Joe Gomez io onestamente sì ottimo giocatore però ripeto non ci farei follia e sì è rapido passaggi che sì il corto ma è lungo così e così agilità neanche così elevata intercettazioni altissime lettura difensiva altissima forza aggressività tanta roba però ripeto costa tanto è uno dei tanti cioè non è che è uscito questa carta sensazionale o questo difensore siamo abituati quest'anno a questi giocatori così soprattutto in difesa quindi questo per dire due paroline su un Joe Gomez comunque passiamo a vedere invece le clip registrate per quanto riguarda questi campioncini e partiamo dal buon Caio Enrique che si speedboosta devo dire in maniera abbastanza ambigua vedete come gli rimane la palla sotto guardate praticamente lui la palla la spinge non si speedboosta guardate proprio balbetta quando fa questi speedboost come potete vedere qui addirittura provo a fargli fare una sortita offensiva quello che vi dicevo guardate come è fake la velocità sembra che faccia una fatica in mano guardate palla al piede con l'L2 non ruota trasla praticamente quindi veramente impresentabile sto Caio sto Caio Enrique qua io ho messo una chiusura di fisico perché almeno il baricentro basso lo fa fruttare ma passiamo subitaneamente su Klaus che almeno diciamo con lo speedboost come potete vedere rispetto al suo compagno se la cava molto molto meglio vedete che almeno a prendere velocità un pochino qua ci siamo però nient'altro onestamente passiamo invece a vedere Big Boy prima ultimo intervento di Klaus che fa questa diagonale che per carità in realtà qua più che una buona diagonale mi sembra una mezza pazzia perché guardate come ha lasciato solo l'uomo libero sul lato sinistro quindi insomma così e così passiamo a vedere Big Boy Marchignos perché Marchignos guardate subito in anticipo come si va a mettere tra la linea del passaggio il ricevitore io praticamente qui non lo controllavo come potete vedere o lui vado solamente ad aggiustare quella che è la sua linea di corsa perché aveva già fatto tutto quanto da solo qui guardate come va a scildare bene dietro Tavio e io qui temoneo solamente premuto l'L2 quindi intervento automatico guardate come recupera il pallone benissimo qui in fase di recupero palla Marchignos ancora in questa situazione guardate la sua aggressività guardate con l'L2 come si è spostato rapidamente ha fatto questo movimento ad andare incontro a Pelé per andare a tagliare la linea di corsa qui altra situazione altro posizionamento impeccabile vedete mentre io tengo il terzino con Marchignos che va a stringere in automatico sulla corsa di Pelé e qui ne apprezziamo la rincorsa come vi dicevo in precedenza guardate come va a mettersi benissimo sulla linea di corsa di Otavio che sembrava avere un margine di vantaggio Otavio che sappiamo essere più veloce Marchignos invece con le sue lunghe leve riesce a rimontare alla grandissima stessa cosa succede qui qui addirittura abbiamo Mbappé guardate Marchignos come riesce prima a tagliargli la corsa e poi grazie al suo baricentro a spostare Mbappé e a fare questo recupero palla molto molto importante voilà quindi Marchignos ribadisco bel giocatore gli diamo un voto un voto 8 nonostante appunto tutti i terzini che ci sono eccetera 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 raga quindi per quanto riguarda queste situazioni da Ligan abbiamo concluso abbiamo concluso questo periodo toz di review fatemi sapere nei commenti se avete provato questi giocatori se vi è piaciuto anche questo tipo di contenuto sul canale magari quando usciranno dei giocatorini di SBC eccetera eccetera magari ve li testerò per portare qualcosa in questo periodo sul tubo in descrizione trovate come al solito tutte le info per le live giornali sulla piattaforma viola ragazzi in saluto e un abbraccione al vostro Liberoschi statemi bene ciao ciao ciao